Elisa Valeriani, Presidente di ERVET, Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio e Università di Modena e Reggio Emilia. Sono qui a parlare di territorio smart e di approccio smart alla valorizzazione economica del territorio e anche per presentare gli stati generali della Green Economy che si terranno in Emilia Romagna e partiranno adesso il 27 di novembre. L'approccio è quello generale di tenere in considerazione non soltanto la regione e le istituzioni ma anche quello di avere attenzione per la cittadinanza e quindi la partecipazione attiva dei cittadini e ovviamente le imprese. Le imprese come motore ma anche come motore green, quindi una regione che è già forte, che ha imprese forti ma che queste imprese possono essere ancora più forti con un'attenzione al green e alla sostenibilità del territorio. Non soltanto quindi ambiente inteso in senso generale ma ambiente declinato come l'ambiente delle imprese, l'ambiente dei cittadini e l'ambiente delle istituzioni. Grazie.